Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo Spava Late Motor Show. Dopo aver mancato l'appuntamento la precedente domenica perché ero in vacanza a Londra, eccomi di nuovo qui con Simone che sta per arrivare. Intanto volevo dirvi, nel caso non l'abbiate ancora visto, che martedì è uscito il test ride dell'Himalayan, che è una moto molto particolare e che spesso viene sottovalutata, ma in realtà può dire la sua nei giusti contesti, e invece venerdì che è uscito un video che spiega come eseguo i test ride, cioè quanto lavoro c'è dietro, la strada che utilizzo, l'attrezzatura che utilizzo, tutto quanto. Quindi ogni volta che se mi seguite su Instagram dico ragazzi sto facendo un test ride, almeno dopo aver visto quel video, sapete cosa sto effettivamente facendo. È un modo per condividere un piccolo pezzetto del mio lavoro con voi. Detto questo, direi che possiamo partire. Un po' di headbanging ci sta sempre. Parte, parte, al semaforo, parte al semaforo, è partito. Parte pure l'altro. Voglio anch'io un claxon così. Beh? Io ogni volta che sento questi qua che c'hanno sto tipo di claxon, domani lo prendo in officina. Sì, porche, porche, porche. Questa è una color correction fatta mezza da tarietto. Sì, sì, sì. Mezza. Oh! Madonna, è rotta. Se prima non lo era, adesso è rotta. Eccolo. Ah, liscio! Ha lisciato? Eh, sì. Io la prendo specchetto. Ci sono più motocilisti di una volta. Dice, c'è stava Simone, la gigante bestia. Ma accadda pure la macchina. L'aveva preso, l'aveva preso. No, le foglie! No, no, ma che foglie? Le foglie. No, no, no. Che è? No, perché hai visto che un moto è? È una moto elettrica. Che fordì? Eh, se ricarica così quella. Affezione. Affezione, sì, sì. Cioè, tipo quelli che tacchino. No, ma se sta scaricando. Eh, quella vai... Alzi, fai, ah, 80%. Wow! Eh, però le carene? No, è fatta apposto. Ah. Mica se è rotta. Infatti, hai visto, è caduto in piedi. Perché la ricarica, tu cadi, cioè la lasci andare. E tu stai in piedi. Per frizionamento. Eh, sì, ricarica. Bello. Oh, è scarica. Visto, guardavo sotto. La carico! Questo è un 50%? Un buon 60%. Dopo, così, raga, a parte le cazzate, le foglie. Le foglie sono tipo... Che uno ce... Esatto. Per motociclista, cioè, uno non ce pensa. Ma in realtà sono pericolosissime. Specialmente se poi è bagnato. Questo umidisce. Pur umidisce, però questo è proprio la morte della morte. Devo ricaricare, lanciare. Mamma mia. Però... Parti senza problemi di olio. C'è un specchietto che gli fa un po' così. Piano, è seri cascato già una volta. Boom! No! Sì, c'è uno specchietto rosso così, porca miseria. Tommati, boom! E' il braccio sblocato. Eh, però io l'ho fatta, vedevo. Questa? Ti è salvato? Abbiamo fatto tutto il cerchio a destra. Però se è salvato. Una stazione di benzina. Una stazione di benzina. Vai a pagare. Tranquillità. Sì, boy! What's up, man? Yeah! C'è le forbici in mano. Oh, questo è il mio colore romano. C'è il che? Sono parte romano. Oh, ok. Quindi questo è praticamente il colore romano. Oh, ho capito. Ok. Io comunque sia questo è abbastanza strano, eh? Sì, c'è un cortello, ma non te preoccupanti, ti voglio ammazzare. C'è, c'è un cortello in mano. Ma mi hai capito che cazzo è poco... Why don't you just put it down, dude? There you go, brother. Oh. C'è, questo si avvicina, no? È un cortello in mano e sembra... Carino e coccoloso. Sì, sì. Tranquillo, non ti uccido. Carino è tipo a bambola assassina, capito? Carino e coccoloso, paffutello. È proprio il cortello in mano. No, no, questo è... Tranquillo. È colorato. C'è colore. C'è colore, pacifico. C'è una lama lunga così, però tranquillo. Non è un cortello, è una bagliaffa. Lui... Dai, 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 dai. Dai, io 5 euro basta, non fatti. Guarda me, hai detto quanto ha messo? 5 dollari. Yeah. Well, they're fur babies, so I got four... I got two German shepherds and two others. Yeah. Ma non mi dà, spago me lo stanno... E questo è spavard quando ci stanno, capito? Quando arriva noi... Alli tembi mei. Alli tembi mei. Per esempio, tu, per esempio, fai di corsa, c'hai la goal con Yamaha, devi andare da Triumph, poi devi scappare in Ducati, poi c'hai la goal della vita e c'è quello che ti dice... Io c'ho un Labrador, nero, bello, e ti cominci a parlare così a mano e tu sei gentile e non te ne puoi andare. Mannaggia. Ripendo la spada, eh. You're good, you're good. Vado a fare una rapina. Ciao, ciao, ciao. Questo c'ha la pistola. Questo, quando gli ha detto all'inizio io sto tenendo la mano sulla pistola così per sicurezza, era vero, perché adesso gli ha detto se senti... Ha detto tipo, aspetto qua e guardo quello che fa, perché non voglio entrare niente sparaglie. Ecco le! No! Che energia, veramente, pure l'ha fatto. No! No! È americano! Però, come l'ha ripresa, eh? Attenzione! A botta del culo. Qui, quanto si è già fatto, visto sì, che skill. No! Cagetta! C'è la neve! Vi chiascio! Vi chiascio, neve! Wow! Wee, wee, wee! Ma, uccio del culo! Sono più matto di... Ah, beh, ok! C'è nessuno! No, se è già fatto! Oh, yes! C'è nessuno! Oh! Oh! Madre santa! Madre mia! Quando entrate nella galleria e soprattutto quando uscite dalla galleria occhio perché per un secondo, un secondo e mezzo l'occhio si deve riabituare e vede tutta luce un secondo e mezzo basta C'è un cane in difficoltà No! Piccolo! Scendi! Ma gli hai da una mano? Ma così, poi, lì? Eh, mi sai che l'hanno investito, sì Dici? Wow! Ah, sei bellissimo! Mi sai che è un po' spaventato? Eh, ma giusto un po'. Io ci avrei pure paura a prenderlo perché magari... Eh, perché sai come raggi cercare Ma a parte quello, no? Se c'hai roba da moto mi sento abbastanza protetto C'è un po' di paura di rompergli qualcosa Se se l'hanno investito, sì rischi di fargli ancora più male È proprio vero Questo è solo un paurito Questo si è solo spaventato Bravo che gli tiene sotto... Patatino Se vedete qualche animale che sta in difficoltà fermatevi a... Subito, regà Subito A aiutarli Va bene, sì Se è solo tanto cagato sotto sto canetto Una persona è passata insomma è rimasto col cane e gli ha dato l'acqua Meno male Meno male che ci sono ancora persone buone di cuore Col bauletto Madonna col bauletto Perché... Ah oddio Il bauletto non avevo visto Madonna col bauletto Ho capito Nel mondo la gente non ha questi pregiudizi contro il bauletto Solo in Italia Perché tu non ci potessi avere la M.T. col bauletto? Mi saresti amico? No Bambinna? Guardi che lì All'America So che cazzo Terza, quarta e quinta su una ruota Tutto questo a mezze maniche Cioè questo sta tipo a tre piotte a due piotte e mezza a mezze maniche I guantini corti Che va in piedi Scendi Ma perché in piedi? Ma che so sti che robazze folle alla G.T.A. Ma quante marce c'ha M.T. Da quanto iniziano il video ha messo 38 marce Yes 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 Oh Tiano Ma non stiamo andando un po' C'è Calisco l'enduro Bellissimo Sembra un po' Oh Oh Ecco 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 Ci siamo L'ecca dragon L'ecca dragon L'ecca dragon Lui Lui qui Ha pensato chiaramente E qui Faccia la scorciatoia Faccia la scorciatoia L'ecca dragon Ti per tacchino E che cazzo pretendi Non lo sapevi Che finiva così No 4 e mezza Cialatta Da solo Da solo Ovvio Da solo Enduro Da solo A cannone Ti hai rilotto qualche cosa Hai preso una botta in testa Eri svenuto Ti ritrovavo Una pasquetta 2035 Io scivolo Da 20 km di orari Mi spacco il piede Questo si fa Un paio di zombetti Tutto a posto E ritorno a casa Vabbè io pure Sono cascato a 20 Allora Gomito distrutto Manufatturata 20 all'ora La fermo Questo cade A cannone Sbattela per tutto A posto C'è la miseria Eccolo Eccolo Bella L'ecca dragon La riga La riga Troppo Eh troppo Fratello Troppo A posto L'ha detto Quello Che non ha sbattuto Contro nessun albero Con la sola Imposizione Del manubrio Gestisco i cani Piano Ma perché in Cile I cani ce l'hanno Così tanto con le moto Non lo so Via 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 Vesta Corre più Da moto Via Ma basta Basta Ma c'è un serio problema De cani Guarda che cosa Guarda che rischi pure che Rischi pure che te vanno sotto le Cioè tutti con lui i cani ce l'hanno Ma che è vestito da gatto È l'uomo gatto È l'uomo gatto con questa rabbanda Oh no sull'acqua no Eh vaffancino Ma questo che cazzo Io vi sapete questo che cazzo cerca Questo dove cazzo deve andare In un punto dove morire Morso dai cani Allora questo lo so io che sa fa Questo è il suo Google Earth Quello street view E lui lo fa per segnalare i cani Lui segnala tutti i cani l'andaggi Questo sta da mezz'ora Che segnala Sta andato in Cile Occhio Guarda il cane quello Ah sei quello con la moto Ma ha detto Antonio Ermastino Fa pure Questo è buono Questo è buono Io comunque sia devo chiedere a Moro contatto perché chiedo È Ernesto Cordova È Ernesto Cordova Ma che cazzo lavoro fai Che Perché Io lo devo chiedere Perché in Cile ce l'hanno tanto che i modi cani O forse Secondo me lui stava cerca L'unico Cane buono Del Cile E l'ha trovato E l'ha trovato Sei tu sei tu Tipo il pokemon shiny Non c'è nessuno Olè Lancia Madonna Ma che è una Animalion Animalion Eh vabbè Questa qua Gli dai pure due martellate Sì sì Prendi il martello Boom 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 Ducarci Al massimo gli hai fatto bene E la rialzi Non si fa niente regà Le giuro Si è aperto pure il cavalletto Sì sì Si è già lei È predisposta per cadere Che modo intelligente Se guardi l'asfalto L'ha rotto eh Qui se c'hai in panicale Erano 6.000 euro di danni L'Himalayan Te pagano E te hai rotto una caviglia E te hai rotto una caviglia Esatto Con l'Himalayan te pagano YouTube Benduro al Vernia Che stai andando a inventare questi Vai dall'altro lato Ah vuole salire sopra con la moto Ah stand man Stand man Stand man ponderato eh Sì Questi stanno proprio a costruire La stanna fa Per salire qua sotto Al momento per salire là sotto Sì Oh io ero un Un mega facito Desta cosa Guarda tu Che stai affastato Non so perché Ma mi puzza di morte Ma c'è la polizia sotto Guarda quello che sta A finta di niente Se ne è andato Un po' come esci Eh Sì Ha visto la polizia Hai la polizia E di amarci Che Che idiota Che idiota Mo' E tembenti Qua ti inc***o forte Qua ti inc***o forte Questo è il mio incubo Agente dietro Mamma mia Me ne è successo una volta con l'R6 È stata una frenata Un altro po' non mi ribarto con tutta la moto Perché la gente dice Ah sono sceso dall'autobus Adesso attraverso Davanti l'autobus Porco due Che occhio che c'ho Multistrada V4 L'avevo detto io L'avevo detto Che dici S1000XL Siete Capisci il cazzo De modo Efficiente Sistema lo specchio Magliette Maniche corte Ma te le maniche cicciottelle Pare Gabriele Che succede Madonna Questa ha mappato Ecco Eeeh Madonna Ma che è La giungla qua WTF Oh Ma che sei scemo E' un roto Warrer poi Porco zio Ma quello è grosso Deve andare sotto le ruote Ma pure se ti tocca Stava pure a prendere Cioè guarda Stava pure a prendere la scala Eh Guarda Cioè a scala qua Final Destination A scala così Oh il roto Ma come ti predo Che cazzo è Povero gabbiano Che cos'è Povero gabbiano Che ha perduto la compagna Ma che è Cerca su Youtube Adesso Vai Se se no Ma lo cerchi Povero gabbiano Hai perduto la compagna E perché questa cosa È diventata È diventata virale Per quello là Per questo Forse si Non lo so Povero gabbiano Hai perduto la compagna Non ne vale la pena Ti capisco Io perché E io mi rompo Un percuna 300 all'ora In pista E questi fanno Povero gabbiano E diventano virale In tutta Italia Mannaggia Povero gabbiano Povero gabbiano Perché a me non mi è venuto in mente Dei fare povero gabbiano Perché Tu che cazzo Che te pago a fa Perché tu in qualche uscita Non mi hai fatto Povero gabbiano Allora Facciamo qualche passo indietro Quanto? Fermiamoci sul Che te pago a fa Che è? Che te pago a fa? Vabbè ma come sei attaccato ai soldi però eh Dai su andiamo avanti Forca miseria Niente Uno paghi qualcuno per contenuto Non te fa il contenuto Povero gabbiano Ah c'ha un attacco di cuore Porco zio C'è l'era Attacco di cuore Guarda Sta prendo un attacco di cuore Lui Attacco di tacos Attacco di tacos Novi ligure Vado? Vado eh Vado tu Ma vai Non c'è nessuno dentro Cazzo io eri andato C'è io ho guardato Io ho guardato Si è fermato vado io eh Io a un certo punto si è fermato Ah là vado io Ho detto vado Ma tu immagina questo che ha guardato dentro Ha fatto vado C'è l'autopiloto il furgone Vabbè Quarto Già hai contagiato la regina Che rega questo C'è Un attore No rega Vi dico sta cosa Sono tornato da Londra Prima davvero Era contagiata Dal covid Mo io Non vorrei essere ricordato Come quello che ha fatto Però sicuramente Sarà bene Guardate L'ha detto eh Sarà bene Sarà bene Io una volta ci ho parlato Con la regina Mi ha detto Gesù Mo ricorda Ragazzino vivace Gesù Ragazzino grazie mille Mi raccomando Lasciate like Se l'episodio vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Attivate anche la campanella Così almeno quando pubblico un nuovo video Vi arriva la notifica E noi ci vediamo Come sempre Al prossimo video Bisogna farlo Bisogna farlo A ognuno il suo Ciao Forza 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 Perco Biffo Mucca Usa Azione Azione È super Efficace No 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 È piore Perché ho fatto tutto C'è Non tutto No C'è Raga ma Raga ma Raga ma ho fatto tutto No Su Ho premuto un tasso Ma ho premuto un tasso Mi se Mi se Spento Sto schermo Mi è passato E' bsqa E' mese E' mese C'è Dici Hai spento il caro Ma che classe è fatta Ha spento il caro E' no Onitor È stato tu Ma Sì Ma Sì Grazie a tutti.